Buongiorno a tutti. Tra le varie particolarità che caratterizzeranno questo anomalo anno scolastico vi è anche quella legata alla necessità di tutelare i lavoratori fragili della scuola, sia essi docenti che non docenti. In proposito, dopo la circolare interministeriale del 3 settembre, il Ministero dell'Istruzione con la circolare dell'11 settembre scorso ha emanato alcune linee di indirizzo da seguire per l'individuazione e la tutela dei lavoratori fragili. In particolare sappiamo che le scuole non sono enti tenuti alla nomina di un medico competente, ma in questi giorni, in queste settimane, si stanno organizzando quasi tutti gli istituti per la nomina di un medico del lavoro che possa sottoporre a visita i docenti e il personale ATA che dovesse fare richiesta. La circolare infatti precisa che le scuole che non hanno nominato un medico competente potranno comunque sottoporre a visita il personale che ne farà richiesta presso gli ambulatori dell'Inail, presso gli ambulatori dell'azienda sanitaria provinciale o presso i dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle università. Quanto alla procedura il docente o il personale ATA che dovessero fare richiesta verranno sottoposti a visita su richiesta del dirigente scolastico presso il medico competente o presso una delle predette strutture. In esito alla visita potrà essere emesso un giudizio che accerti l'idoneità o meno al lavoro del lavoratore. Precisiamo sin da subito che l'idoneità al lavoro e quindi la fragilità del lavoratore non è connessa limitatamente esclusivamente alla età ma naturalmente occorre una condizione di patologie pregresse che possono comportare l'esposizione a un maggior rischio del lavoratore stesso. Quindi il giudizio medico legale potrà essere di tre tipi di idoneità al lavoro, in questo caso il lavoratore sarà regolarmente adibito alle proprie mansioni, di idoneità con prescrizioni qualora il medico competente dovesse disporre l'adozione di alcune cautele per consentire al svolgimento dell'attività lavorativa. In questo caso il dirigente scolastico sarà tenuto, sarà obbligato ad adottarle, quale ad esempio fornire mascherine più protettive come quelle FFP2 oppure aumentare il distanziamento o riorganizzare il luogo di lavoro o l'orario di lavoro. L'altra ipotesi è quella dell'accertamento di una inidoneità temporanea alla mansione specifica o una inidoneità temporanea a qualsiasi attività lavorativa. Nel primo caso il lavoratore avrà la possibilità di scegliere o essere adibito ad altre mansioni diverse nel caso specifico dei docenti dall'insegnamento oppure scegliere di non essere adibito ad altre mansioni. In quest'ultimo caso il dirigente dovrà collocarlo in malattia d'ufficio. Nel caso in cui dovesse richiedere di essere adibito ad altre mansioni si applicheranno le indicazioni del contratto collettivo integrativo sull'utilizzazione del personale inidoneo del 2008 che prevede l'adibizione a mansioni tipo l'applicazione alla biblioteca d'istituto, mansioni di supporto alla didattica soprattutto digitale e mansioni che potranno essere svolte anche in modalità di lavoro agile. Nell'ultimo caso quello più grave potrebbe essere anche accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi attività lavorativa e in questo caso il docente o persona alleata dovrà essere collocato in malattia d'ufficio. Grazie e arrivederci.